Ulteriore crescita della cassa integrazione dei licenziamenti in Lombardia a luglio è quanto annuncia la CGL regionale che indica un incremento del 6% rispetto ai primi sette mesi del 2011 con un aumento del 22% della cassa in deroga e del 56% di quella ordinaria mentre si è ridotta del 32% la cassa straordinaria. Quanto ai licenziamenti sono arrivati a quota 37.305 ovvero più 25% con un tasso di disoccupazione salito al 7%. Secondo Giacinto Botti, membro della segretaria regionale dell'organizzazione, i dati segnalano ancora una volta la profondità della crisi, la sua trasformazione e l'andamento oscillante dei suoi effetti e riconfermano le caratteristiche e i limiti di struttura del sistema economico regionale. In particolare il tessuto produttivo ed occupazionale della Lombardia dall'inizio della crisi sta subendo una significativa riduzione di circa il 25% mentre la disoccupazione è in crescita e i dati ufficiali indicano che è arrivata oltre il 7%. Da qui la richiesta di politiche industriali di investimento e di indirizzo pubblico finalizzate a favorire innovazione, ricerca, sviluppo e crescita. La provincia di Varese fa segnare la più alta percentuale ovvero 7,3% di utilizzo di cassa integrazione con 22 milioni di ore per numero di lavoratori dipendenti 282 mila. Secondo i dati della Camera di Commercio la disoccupazione nel 2011 nella provincia di Varese si attesta intorno al 7% superando la media regionale che si attesta invece al 5.8. La globalizzazione, spiega Mario Temperelli, segretario generale della Camera di Commercio di Varese, investe tutto e quindi anche l'occupazione. La situazione che più ci preoccupa è la disoccupazione giovanile e dei lavoratori tra i 40 e i 50 anni che vengono espulsi dal mercato del lavoro e difficilmente sono ricollocabili.